Cari amici, con la solennità di domenica prossima di Maria, Madre di Dio, la Santa Madre Chiesa vuole affermare con certezza e senza ombra di dubbio che la persona di quel bambino che nasce da Maria a Betrelle non è una persona umana, ma una persona divina, ed è esattamente il verbo del Padre, la seconda persona della Santissima Trinità. E dato che Maria non è la madre del corpo che esce dal suo grembo purissimo, ma madre della persona del suo bambino, allora ha giusta ragione e la può essere chiamata Madre di Dio. Madre di Dio in quanto uomo chiaramente e non in quanto Dio, perché in quanto Dio il verbo è coeterno con il Padre e lo Spirito Santo, in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, come ci ricorda San Giovanni nel bellissimo prologo al suo Vangelo. Ma questa nostra madre dolcissima e tenerissima, mamma di Gesù e mamma nostra, ci ricorda anche un'altra verità, che serve che Gesù per nascere non aveva bisogno di un albergo, non c'era posto infatti per loro nell'albergo, e solo perché Dio solo alberga in un cuore puro. Maria per la purezza del suo cuore ha reso visibile Dio. Cari amici, non è un caso se Gesù proprio in questo secolo, in cui il cuore dell'uomo, come mai prima, è ostaggio del male, ha voluto, attraverso la vita e l'opera di una piccola grande anima, chiamata Madre Liliana del Paradiso, far conoscere la sua mamma con il nuovo titolo di Regina dei Gigli, perché si diffondesse e fosse accettato il suo messaggio di purezza. La ragion d'essere della vita di Madre Liliana è stata proprio, secondo le sue parole, la Regina dei Gigli e il suo messaggio di purezza. Infatti, Madre Liliana ci ricorda che solo se avremo un cuore puro e limpido possiamo accogliere noi Gesù. Da qui la corata invocazione alla Regina dei Gigli, riempici del tuo amore, o mamma dolce e tenera, purificaci alla vera sorgente dell'amore. Cari amici, senza la purezza del cuore non c'è Dio e dove non c'è Dio non c'è pace. Ecco la missione della Madre di Dio che, finché ci sarà il mondo, non sarà mai conclusa. Riportare continuamente per mezzo della purezza del cuore Gesù al mondo e il mondo a Gesù, perché l'umanità ritrovi la pace. È tutto per adesso. Permettetevi di augurarvi ancora una volta un felice anno nuovo. Dio vi benedica sempre.